Parliamo di inchiostrazione, è una tecnica che è usata principalmente, forse quasi unicamente dai fumettisti, anche se deriva dall'incisione, quindi torniamo sempre al discorso che l'antico è importante per il moderno e quindi vediamo su questo foglio, un foglio di carta liscia, un disegno del grande Tex che dovremmo inchiostrare. Di solito io uso i pennini per la linea, anche qui il discorso sulla linea sarebbe lungo da fare perché la linea è un'infezione umana che determina degli effetti ottici che danno il senso della tridimensionalità, quindi è un'invenzione veramente geniale, è quella che delinea le forme, non esistono in natura, non abbiamo una linea di contorno, la linea di contorno è un'invenzione umana, quindi questa linea di contorno io di solito la faccio con il pennino perché il pennino è modulare. La prima cosa da fare su questo disegno è quello di definire magari qualcosa che non ti convince eccetera, magari anche proprio sulle proporzioni oppure sul chiaroscuro, poi alleggerire il segno perché comunque la matita è grassa, il pennino per farlo scorrere meglio è meglio dare una pulita al foglio. Di solito utilizzo l'inchiostro acrilico, l'inchiostro acrilico è un'invenzione recente come questo del, forse è proprio l'unica casa produttrice che lo fa, della Liquidex, che ha dei vantaggi che adesso vi espongo. Intanto la consistenza e la fluidità dell'inchiostro di china e per il pennino è fondamentale. Io utilizzo l'inchiostro acrilico anche per questo, nel senso che lo posso diluire con l'acqua in modo che sia più fluido, più scorrevole e però mi mantiene come vedete una consistenza e il nero deciso. Poi un altro vantaggio è quello di poter utilizzare il colore sull'originale. Di solito se uno utilizza la china normale, una volta che ci va con i colori ad acqua, con le chine, con gli originali, anche utilizzando sempre gli stessi inchiostri colorati che hanno delle proprietà notevoli, nel senso che sono trasparenti ma nello stesso tempo possono essere anche coprenti. Hanno la brillantezza dell'acrilico ma hanno anche la fluidità e la delicatezza delle chine. Quindi l'utilizzo va bene sia per l'inchiostrazione sia per la grafica ma anche per l'illustrazione, per il colore. Vedete come scorre bene? Il pennino è uno strumento fantastico anche se è un po' antico, eccetera. È quello che si riallaccia alla tradizione degli incisori e dei disegnatori della storia dell'arte. Però è difficile da utilizzare perché è molto sensibile. Quindi se l'inchiostro, se il pennino non è un pennino efficiente, l'inchiostro non esce a sufficienza. Se la punta è danneggiata, la linea non esce precisa. Se l'inchiostro è troppo denso, non è fluido. Se l'inchiostro non è abbastanza nero ma non blocca nella sua scorrevolezza il pennino, non viene la linea modulare, che è una delle esigenze per usare la linea per degli effetti ottici che simulano la tridimensionalità. Di solito il fumetto si basa su appunto il tratteggio, la linea, anche degli effetti fotografici legati al bianco e nero. Infatti spesso mi viene da usare anche il pennello, specialmente per le ombreggiature. E i vantaggi dell'inchiostro acrilico è che pur essendo stato diluito oppure mantenendo una sua, come posso dire, consistenza non eccessiva, vedete che i neri sono belli forti, pieni e coprenti. Quindi per questo lavoro grafico, che poi si unisce al colore, è sicuramente un prodotto innovativo. Io sinceramente gli inchiostri acrilici già li usavo da molto, però me li facevo da solo. Cioè utilizzavo gli acrilici della Liquidex, li diluivo cercando la consistenza dell'inchiostro di china per poi utilizzarli sia nell'inchiostrazione che nel colore. Però era molto faticoso e spesso non mi riusciva, per cui veramente quando li ho visti in commercio sono stato molto felice. Di solito quando uno va sul discorso della grafica, del fumetto o anche dell'illustrazione, l'illustrazione poi riguarda non soltanto il fumetto ma riguarda anche la pubblicità, riguarda il cinema, riguarda il cartone animato eccetera eccetera, per realizzare delle forme che abbiano, come posso dire, un contenuto popolare, cioè che siano chiare a tutti e che abbiano un target specifico. Si usano la linea e si usa il tratteggio e si usano le forme chiuse, mentre magari in altri casi raccontare attraverso qualcosa di più pittorico magari li rende meno comprensibili al pubblico. E poi c'è anche un discorso di praticità, cioè se uno racconta una cosa a fumetti, la linea grafica, il bianco e il nero, è vantaggioso sia per la stampa, per la chiarezza di lettura. Di solito le cose che sono adatte per l'illustrazione sono legate al racconto, alla storia, perché comunque il segno grafico che chiude le forme è più chiaro, è più vicino alla letteratura, racconta meglio ed anche più pratico per la stampa. Si possono ottenere anche degli effetti che poi sono adatti per la lavorazione al computer. Si può lavorare con un'equip, cioè in pratica chi c'è chi disegna, questo per esempio lo fanno gli americani, chi disegna, chi inchiostra, chi colora. Quindi sicuramente le cose adatte per questo tipo di tecnica sono legate al fumetto, al racconto scritto, alla stampa. Anche se i suoi antenati sono il Dürer, oppure per avvicinarsi ai nostri tempi, i Doré, Piranesi, tutti quelli che hanno sviluppato la tecnica legata alla linea, al tratteggio, al disegno attraverso l'incisione. È chiaro che la linea può essere usata in tanti modi, per esempio nella mia storia personale io ho cominciato inchiostrando i miei disegni in maniera molto espressionista, molto pittorica, guardavo Breccia o Battaglia, perché appunto venendo dalla pittura ero interessato a quel tipo di tecnica. Però poi mi sono accorto che le storie che volevo raccontare, oppure che mi piacevano, non erano adatte per quel tipo di tecnica, serviva un disegno più lineare, quindi ho adottato il pennino, la linea chiara francese, ho studiato un po' sulla pulizia del segno, che è sicuramente meno pittorico, più preciso, in qualche caso quasi Liberty, però mi consente di poter raccontare e poter visualizzare le storie che amo. Quindi spesso la tecnica nel fumetto specialmente non è legata soltanto a un discorso estetico, ma è legata anche a un discorso letterario. Cioè uno sceglie il tipo di stile e di conseguenza anche lo strumento, proprio per i propri gusti personali, cioè le cose che vuole raccontare, che vuole leggere. E cerca anche, magari, se non si scrive la storia da solo, gli sceneggiatori adatti quando è possibile al proprio stile. Poi ovviamente c'è tutta la parte tecnica che è legata allo studio dell'autore di riferimento, all'allenamento. Per esempio, vedete che io non sto fermo con il foglio perché lo posiziono in misura in cui mi è più comodo. Per non arrampicarmi sul tavolo e stare in posizioni poco agevoli, cerco di girare il foglio. E' una cosa che hanno messo anche su Photoshop, la manina che gira il foglio. Nell'inchiostrazione questo è indispensabile. Quindi consiglio non fissare il foglio al tavolo. E vedete come scorre bene se inchiostro? Veramente, pur mantenendo il nero pieno. E' chiaro che tutto è correlato al disegno. Qui parliamo veramente di due cose che in qualche modo si sostengono una con l'altra. Nell'inchiostrazione sotto bisogna avere un disegno preciso, almeno per come la penso io, perché non si può pensare a due cose contemporaneamente. O pensi alla grafica, alla linea, alla modulazione del segno, o alla freschezza dell'uso del pennello o al segno aperto, chiuso, eccetera. Oppure correggi il disegno. Non si possono fare le due cose insieme, secondo me. Oppure non si possono fare completamente. Quindi capisco anche che magari possono essere fatte da due persone diverse. Di solito l'inchiostrazione è quella che dà anche lo stile al disegno. Perché la matita sotto è qualcosa di fondamentale, ma questo non soltanto per l'inchiostrazione, ma per tutte le opere figurative. Però poi quella che dà la cifra stilistica, lo stile, eccetera, è l'inchiostrazione. Bisogna avere una mano molto allenata. Questo è sicuro. Cercando di non rovinarsela, esagerando magari con le ore di lavoro, eccetera. Però bisogna lavorare senza troppi dipensamenti. Almeno se si usa il pennino. Poi magari delle cose si possono correggere successivamente. Per mantenere una certa freschezza, un dinamismo. Sicuramente se si tratta di cose d'avventura o dinamiche come appunto Tex. Ecco, questo è da evitare. Cioè, aspettate di far asciugare la linea il segno perché altrimenti poi ci andate sopra con la mano e sporcate. Io utilizzo una tecnica mista perché poi alcune cose le faccio anche con il pennarello. E poi, insomma, tutti gli ingombri o le ombreggiature vengono fatte con il pennello. Sempre il pennello di martora. Il pennello di martora Winsor & Newton è uno strumento indispensabile per il fumettista. Almeno quello che lavora ancora con strumenti tradizionali. Per un semplice motivo, perché mantiene la punta. Se parliamo di pennini, il discorso è molto ampio. Nel senso che io uso dei pennini che sono in via di estinzione. Che sono i perdi 25. Quindi ho dovuto adottare altri pennini. Ci sono quelli giapponesi che sono molto professionali. I giapponesi amano molto il fumetto. Per cui inventano anche materiali adatti proprio per il fumettista. E però ci sono anche pennini come i Contè oppure altre marche, eccetera. L'importante è che siano flessibili. Non siano strani. Quelli strani con forme bellissime io li ho incorniciati. Quelli sono per la grafica. Gli strumenti, specialmente per l'inchiostrazione, devono essere tarati a seconda della propria mano o della propria sensibilità. Per esempio io ho una mano pesante per cui ho bisogno di un supporto rigido per la linea che se usassi il pennello mi verrebbero delle linee troppo grosse. E così la stessa scelta dei materiali per esempio i pennini giapponesi vanno bene però non mi consentono di poter lavorare in una certa maniera. Per esempio usando il pennino al contrario. Cosa non ortodossa però a me mi consente di fare delle linee sottilissime che fatte con altri strumenti per esempio con i pennarelli una volta che uno cancella vengono via. E' chiaro che poi il target diciamo così l'effetto grafico è quello di un disegno che si basa esclusivamente sul rapporto linea, segno tratteggio dettaglio eccetera quindi molto legato alla scuola francese una scelta filosofica una scelta stilistica una scelta come dicevo prima legata proprio al tipo di storie che uno vuole rappresentare. Questo discorso dell'inchiostrazione che è legato alla stampa è veramente una cosa interessante perché parte il fatto che diciamo le tecniche tipografiche sono migliorate tantissimo ma è importante perché secondo me l'esperienza di un disegnatore è legata anche a questo cioè l'aver visto tantissime volte pubblicate le proprie cose e quindi scoprire le cose che non si devono fare. Quando ero giovane spesso facevo delle cose che negli originali erano molto belle e poi invece nel nel definitivo non funzionavano. Mi è stato molto utile il lavorare sia per il fumetto d'autore ma anche per il fumetto seriale insieme cioè è stato molto utile vedere pubblicate le mie cose su formati edizioni diverse dimensioni diverse e quindi per quanto riguarda l'inchiostrazione sono riuscito ad avere una come posso dire una specie di catalogo di cose da fare e da cose da non fare. Poi mi è servito molto l'esperienza che ancora sto facendo con con la Bonelli una casa editrice di Milano che pubblica dei fumetti popolari ma anche molto difficili da realizzare quindi affrontare temi diversi o delle difficoltà per esempio tex da disegnare è molto difficile questo ti consente anche di affinare la propria tecnica di essere più sintetico essere più come posso dire semplice e complicato nella stessa maniera il mestiere è fondamentale non c'è mestiere senza arte non c'è arte senza mestiere questo diceva un mio amico ed è vero tutti gli artisti hanno una componente del mestiero cosa che la storia dell'arte non prevede c'è un critico d'arte lavora sull'etica sulla filosofia sulla storia eccetera ma non si rende conto che i pittori di rinascimento pagavano il mutuo come lo sto pagando io e quindi si inventavano tecniche e soluzioni per accorciare i tempi o per rendere al meglio o per rendere più efficaci le loro opere siamo sempre lì la parte artigianale nel mondo dell'arte è fondamentale a 360 gradi uno che fa un lavoro artistico deve mantenere questo non significa falsa modestia deve mantenere quel minimo di umiltà in modo che ogni volta cerca di concentrarsi sulla riuscita del lavoro più che su se stesso quindi la parte narcisistica è legata alla buona riuscita dell'opera un dettaglio tecnico cioè sull'inchiostrazione sono cose difficili da fare ed altre più semplici per esempio i primi piani si ingrandiscono le linee devi dare il senso dell'emotività eccetera diventano più difficili il cavallo è sicuramente difficile sia da disegnare che da da inchiostrare le scenografie uno può utilizzare anche perché comunque il pennarello insieme al pennino vanno abbastanza d'accordo può usare si può aiutare con delle righe con appunto con il l'utilizzo di pennarelli ce ne sono tantissimi e sono straordinari io però sono molto legato alle tecniche del passato che ritengo siano ancora valide almeno per quanto riguarda il mondo dell'immagine forse perché sono antico pure io non lo so vedete con il disegno preciso sotto come possiamo velocizzare il lavoro il lavoro il lavoro non è forzato viene fluido viene come in qualche modo anche più bello estericamente chiaramente la matita si può cancellare mentre l'inchiostro no ma di solito non si se proprio le cose sono irrecuperabili ma non si butta niente nel senso che si cerca di correggere ci sono molti modi per correggere un disegno adesso poi con il computer puoi si è facilitato una volta che hai scansionato il disegno inchiostrato tarato il bianco e nero eccetera eccetera puoi correggere in tanti modi ma si può correggere anche sull'originale utilizzando delle biacche oppure grattando con la lametta oppure usando delle toppe insomma il disegnatore per una macchia non rifà il disegno questo è certo e magari il problema è che se sotto il disegno non funziona una volta che hai inchiostrato si evidenzia ancora di più non chiedetemi perché perché non lo so però è così di solito per disegnare io utilizzo per il bozzetto per eliminare eccetera la matita molto grassa una 2b eccetera anche perché così non fatico troppo con la mano poi però il clean up il definitivo proprio perché l'inchiostro ha bisogno di un supporto che sia abbastanza pulito per scorrere felice e come posso dire funzionante felice ed efficace utilizzo la matita dura anche perché così non mi innamoro del segno grafico della matita che è una cosa abbastanza consueta nel senso che uno con la matita che è molto più calda istintiva interessante eccetera fa fatica a ricoprirla con un inchiostro nero che invece è più meccanico più grafico e però questo è importante perché poi non si stampa la matita ma si stampa l'inchiostro per cui tendo a fare delle matite definitive che siano fredde e algile e poi magari riscaldarle con il segno grafico grafico il segno a Grazie a tutti. Grazie a tutti.